Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, questo è un video fatto in collaborazione con CellularMania che ringrazio per avermi portato a conoscenza di questo prodotto davvero molto interessante. Si tratta di GIFGAF, questo è esattamente il sito e devo dire è un prodotto molto interessante per chi ha bisogno di una sim inglese. Questo ci permette infatti di avere una sim inglese che verrà spedita in maniera gratuita a casa nostra. Troverete il link poi in descrizione a questo video per andare effettivamente a richiedere la GIFGAF e riceverla più velocemente possibile, questo grazie a CellularMania, ma di cosa si tratta? Questa sim, abbiamo già fatto un articolo dedicato, il link lo trovate sempre in descrizione, vi permetterà di poter, se vi trovate in Italia, effettuare chiamate molto vantaggiose verso numeri inglesi senza dover spendere un capitale, ma soprattutto vi potrà servire nel caso in cui andrete in Inghilterra perché potrete scegliere tra diversi piani e andare poi ad attivare la sim. Per attivare la sim cosa bisogna fare? Voi richiedete la sim tramite il link che trovate in descrizione, richiedete la sim, vi arriverà la sim a casa, dopodiché dovrete entrare su questo sito ed entrare appunto in Activate Your Sim, quindi questo ci permetterà di andare ad attivare effettivamente la nostra sim. Per attivare la sim dobbiamo andare ad inserire il codice della sim che può essere da 6, da 13, da 16, da 19 PIN. Nel nostro caso il codice è questo, che ovviamente sarà oscurato all'interno del video, quindi poi cliccheremo su Continua e questo ci permetterà di andare a inserire tutti i nostri dati, quindi l'email, andiamo ad inserirla, community member name, mettiamo un nome a caso credo, non serve il nostro nome e cognome preciso, poi la password, mettiamo una password a caso e poi dici mandami tutte le informazioni, quindi qua in realtà ci stiamo registrando. Una volta registrati, vedete, possiamo scegliere il piano che vogliamo sulla nostra sim. Ovviamente se non state andando domani in Inghilterra, quello che vi consiglio di fare è non selezionare nessun piano. Andiamo adesso ad analizzare velocemente i tipi di piani, quindi abbiamo da 5, da 7,50, 10, 12, 15, 18, 20, 5, 7,50 sterline, che ovviamente dovrete convertire in euro nel caso in cui state utilizzando una carta di credito in euro per attivare questa sim. Se state per andare in Inghilterra, la migliore che viene spesso fatta e anche segnalata è 15 sterline, quindi circa 18 euro e avrete 5 gigabyte di navigazione data, mille minuti di chiamate e infiniti messaggi di testo non a pagamento. Quindi nel momento in cui andate in Inghilterra potete attivare effettivamente questa promozione. Oppure se avete bisogno veramente di tanto internet, qui come potete vedere è tutto illimitato, 20 sterline, quindi circa 25 euro, dove però dice che in realtà dopo i 6 gigabyte si avrà una velocità, sarà sempre gratuito a navigare, però a una velocità ridotta. Nel caso in cui, come nel mio caso, state attivando questa sim per farvi chiamare dall'Inghilterra da aziende che chiamano solo su sim inglesi, oppure da persone che abitano in Inghilterra in modo tale che non spendiate un macello di soldi sia voi che ricevete la chiamata che è colui che sta vivendo in Inghilterra, potrete andare a selezionare questo not looking to buy a plan, quindi semplicemente attivare la scheda sim. Quindi noi andiamo qua, selezioniamo, vedete, e possiamo scegliere l'ammontare di ricarica da fare sulla nostra sim per attivarla. Io in questo caso scelgo la 10 sterline che è il minore, quindi sto per fare una ricarica da 10 sterline sulla mia sim. Quindi fai salva e continua, ok, e qua, come potete vedere, richiede tutte le informazioni di pagamento, quindi vado a riempire le informazioni di pagamento, dopodiché faccio ripartire il video una volta che ho cliccato su Pay Now dopo aver messo tutte le varie informazioni. La cosa buona è che non serve una carta di credito inglese perché potremo tranquillamente utilizzare la carta di credito italiana. Quindi adesso vado ad inserire, vado a pagare e dopodiché riparto con la registrazione. Come potete vedere ho appena effettuato il pagamento, mi è arrivata una mail che dice hai attivato la tua sim, mi sono stati anche regalati 5 sterline, quindi io in questo momento ho 10 sterline sulla mia scheda sim GIFGAF e in più mi sono stati regalati altri 5 sterline, quindi ho 15 sterline e per esempio posso andare ad attivare, se voglio, le promozioni che ho visto prima facendole partire, durano ovviamente un mese. E devo dire che sinceramente per chi si deve trasferire in Inghilterra, andare in vacanze in Inghilterra, oppure anche per lavoro si sposta spesso in Inghilterra, questo può essere la soluzione a tutti i vostri problemi perché potrete avere quindi una scheda sim che arriva gratuitamente a casa vostra, che potrete attivare tranquillamente con qualsiasi sim, con qualsiasi carta di credito italiana e che funziona alla perfezione in Inghilterra e abbiamo anche il 4G per la connettività dati. Se vi state chiedendo come utilizzare internet sulla vostra GIFGAF che avete appena attivato, basterà inserire la sim all'interno dello smartphone che utilizzerete e nel caso in cui la connessione non parta automaticamente quello che dovrete andare a fare è semplicemente andare nelle impostazioni di connessione e come APN inserire GIFGAF.com come username mette GIFGAF e come password lascia leave blank. Quindi questo è quello che dovrete fare. Poi ovviamente se avete qualsiasi altro tipo di iPhone, per esempio di smartphone, quindi un iPhone, ci saranno video dedicati se andate su GIFGAF per capire effettivamente come andare ad attivare al meglio la vostra SIM. Questi sono tutti i dati all'interno della SIM, quindi numeri da chiamare. Poi vi permetterà anche di cambiare il numero di telefono in quanto vi verrà assegnato un numero di telefono su questa GIFGAF e potrete anche andare per esempio a spostare il numero di telefono di un operatore italiano che avete sempre utilizzato sulla GIFGAF e quindi utilizzare quel numero sulla GIFGAF. Però sinceramente non trovo davvero il motivo per farlo. Quindi una volta che abbiamo attivato tutto possiamo andare sulla nostra GIFGAF. Come potete vedere ho 15 sterline. Posso andare ad acquistare una delle promozioni che abbiamo visto prima e niente, abbiamo la nostra SIM funzionante, SIM inglese, quindi utile per, come ho già detto, tutti quelli che chiameranno dall'Inghilterra verso noi che ci troviamo in questo momento in Italia oppure per quando andremo appunto noi stessi in Inghilterra. Bene, io ringrazio ancora Cellular Mania che mi ha permesso di fare questa recensione. SIM davvero interessante. Ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio Hightech. Grazie a tutti.